E per Paola Galante c'è un 13 e 15 di punteggio e adesso vediamo invece Jacqueline Hunt della Gran Bretagna impegnata nel volteggio, un giudizio da parte di Giorgio Cittò. Sì, un Yurchenko avvitato, teso, un punteggio di partenza da 5, quindi da 15 perché dopo il 5 va sommato al 10 di esecuzione e da lì poi verranno tolte le penalità dell'esecuzione stessa. Ecco qui il replay per Jacqueline Hunt della Gran Bretagna, per lei un 13 e 95, la valutazione espressa dalla giuria. E adesso vedremo la parte conclusiva dell'esercizio alle parallele asimmetrie.